Numero Cacciatori, numero 10 Gianluca Di Lorenzo, numero 11 Alessio Schiavi, in panchina, numero 12 Piunti, numero 13 Enrico, numero 14 Cipolloni, numero 15 Tarli, numero 16 Troiani, numero 17 Capriotti, numero 18 Pelliccioni, allenatore signor Stefano Filippini. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti. Sostituisce il numero 2 Filomeni. Sostituisce il numero 3. 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 Sostituisce il numero 3.